La scuola in Italia Esempio, in Italia la scuola è obbligatoria per 10 anni, da 6 a 16 anni di età. In Italia tutti i bambini, quando hanno 6 anni, devono andare alla scuola primaria, dove fanno 5 anni, dalla classe prima alla quinta. In queste scuole lavorano con due o più maestri. Finita la scuola primaria, i bambini vanno alla scuola secondaria di primo grado, che tutti chiamano scuola media. Qui fanno tre classi, dalla prima alla terza, con tanti professori. Alla fine della terza hanno un esame. Dopo la scuola media, i ragazzi vanno alla scuola superiore. Secondaria di secondo grado, che dura 3 o 5 anni. Qui ogni studente sceglie il tipo di scuola che preferisce. Liceo, alberghiero, tecnici, professionali. Alla fine della scuola superiore, i ragazzi devono dare l'esame di Stato. Chiamato anche esame di maturità, se lo superano, possono andare all'università non è tutte le città, ma solo nelle più importanti. All'università, i ragazzi possono studiare 3 o 5 anni. Alla fine degli studi, c'è un esame molto importante, la tesi di laurea. Se lo superano, prendono la laurea nella materia che hanno studiato. Medicina, Economia, Lingue, Ingegneria, Architettura. La scuola in Italia Esempio, in Italia la scuola è obbligatoria per 10 anni, da 6 a 16 anni di età. In Italia tutti i bambini, quando hanno 6 anni, devono andare alla scuola primaria, dove fanno 5 anni, dalla classe prima alla quinta. In queste scuole lavorano con due o più maestri. Finita la scuola primaria, i bambini vanno alla scuola secondaria di primo grado, che tutti chiamano scuola media. Qui fanno tre classi, dalla prima alla terza, con tanti professori. Alla fine della terza hanno un esame. Dopo la scuola media, i ragazzi vanno alla scuola superiore. Secondaria di secondo grado, che dura 3 o 5 anni. Qui ogni studente sceglie il tipo di scuola che preferisce, liceo, alberghiero, tecnici, professionali. Alla fine della scuola superiore, i ragazzi devono dare l'esame di Stato. Chiamato anche esame di maturità, se lo superano possono andare all'università non è tutte le città, ma solo nelle più importanti. All'università i ragazzi possono studiare 3 o 5 anni. Alla fine degli studi c'è un esame molto importante, la tesi di laurea. Se lo superano prendono la laurea nella materia che hanno studiato, medicina, economia, lingue, ingegneria, architettura. La scuola in Italia Esempio In Italia la scuola è obbligatoria per 10 anni, da 6 a 16 anni di età. In Italia tutti i bambini, quando hanno 6 anni, devono andare alla scuola primaria, dove fanno 5 anni, dalla classe prima alla quinta. In queste scuole lavorano con due o più maestri. Finita la scuola primaria, i bambini vanno alla scuola secondaria di primo grado, che tutti chiamano scuola media. Qui fanno tre classi, dalla prima alla terza, con tanti professori. Alla fine della terza hanno un esame. Dopo la scuola media, i ragazzi vanno alla scuola superiore. Secondaria di secondo grado, che dura 3 o 5 anni. Qui ogni studente sceglie il tipo di scuola che preferisce. Liceo, alberghiero, tecnici, professionali. Alla fine della scuola superiore, i ragazzi devono dare l'esame di stato. Chiamato anche esame di maturità, se lo superano, possono andare all'università non è tutte le città, ma solo nelle più importanti. All'università i ragazzi possono studiare 3 o 5 anni. Alla fine degli studi c'è un esame molto importante, la tesi di laurea. Se lo superano prendono la laurea nella materia che hanno studiato, medicina, economia, lingue, ingegneria, architettura. Grazie. Grazie. Grazie a tutti